Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video nel quale vi insegnerò ad installare la macchina Web4PenTester su macchina Linux, in questo caso Ubuntu, utilizzando VirtualBox. Ci sono 50 milioni di modi diversi per installare questa macchina, io utilizzo questo, potete usare il software di virtualizzazione che volete e dovrebbe anche essere portabile questo metodo su più sistemi operativi, quindi dovrebbe in teoria funzionare anche su Windows o comunque dovrebbe funzionare su Windows con dei minimi accorgimenti che potete trovare su Google. Non linciatemi, non mettete dislike al video, non venitemi sotto casa se non funziona su Windows, io lo sto facendo su Linux, anzi vi chiedo di scrivere nei commenti se funziona anche su Windows così avrò questo feedback, io purtroppo non sono in grado di testarlo in questo momento. Comunque, la prima cosa che dobbiamo fare, e vi chiedo subito scusa per la qualità abbastanza scadente del video, però sto registrando in una risoluzione un po' particolare, è cercare su Google Web4PenTester download e schiacciare questo risultato qua, anche se probabilmente anche gli altri funzionano. Andate su questo sito e cliccate qui, ce la posso fare a parlare per scaricare l'ISO. Una volta scaricato, dovreste avere un file di questo tipo, eccolo qua, in questo caso pesa meno di 200 MB, quindi niente, assicuratevi che abbia più o meno queste dimensioni, a meno che non state guardando il video tra vent'anni. Dopodiché apriamo il nostro VirtualBox, facciamo new sulla macchina, qua date il nome che volete, e per sicurezza mettiamo adder adder, questa macchina dovrebbe essere finalmente Debian, quindi volendo potete anche mettere Linux, versione Debian, bla bla bla. Dateli per piacere tanta RAM, se no vi va lentissima, e le altre opzioni se non sapete cosa fanno, lasciatele così come sono. Dopodiché, tasto destro, settings sulla macchina, andiamo su storage, cancelliamo queste cose giusto per pulizia, questo controller ci va bene, schiacciamo su il dischetto con il più, qua potete schiacciare su più e cercare il vostro percorso, io ce l'ho già perché l'ho già utilizzata, quindi selezionate l'ISO che avete appena scaricato, web for pentester, facciamo choose, assicuriamoci che sia lei, perfetto. Già che siamo qua andiamo su network e schiacciamo NAT network, ricordatevi di fare questa opzione, lasciate così com'è, fate ok e facciamo start. Vi ricordo che su VirtualBox con il clic destro uscite con il mouse da questo schermetto qua se non vi fa più uscire. Già se vedete la schermata e se sta elaborando qualcosa qui dentro vuol dire che è andato tutto a buon fine, quindi facciamo clear, facciamo pvd, siamo dentro la macchina. Ora nel nostro utilizzo ideale questa macchina non va utilizzata al terminale, quindi possiamo benissimo lasciarla a se stessa. Schiacciamo ipa e se vedete un indirizzo di questo tipo, ovvero 10.0.2.8, vuol dire che le cose stanno andando bene. Andiamo su VirtualBox, schiacciamo file, preferences, andiamo su oddio, che brutta interfaccia grafica che ha questo VirtualBox su Linux. Schiacciamo su network, qui se non avete niente schiacciate il tasto più per creare una NAT network, io ce l'ho già quindi doppio clic per modificarla, queste opzioni le lasciate esattamente così come sono o comunque come ce le ho io e fate port forwarding, che è quello che vi interessa. Ora voi qui non dovreste avere assolutamente nulla, sì posso rimuovere, perfetto. Fate il tasto più per raggiungere una nuova regola, TCP va bene, qua come OS mettete l'OS locale, quindi 127.0.0.1 e qua scegliete la porta che volete voi, non mi scegliete la porta 80 o comunque porte note per altri servizi perché se no ragazzi è chiaro che non vi funziona o comunque aspettatevi risultati strani. Io scelgo la porta 10.001, vi consiglio di farlo stesso, anche la 10.000 va bene, anche la 11.000, 111, va benissimo. Guest IP invece mettiamo l'IP che abbiamo trovato nella nostra macchina, in questo caso 10.0.2.8 10.0.2.8 e qua è importantissimo, guest port 80 che è la porta che risponde alle richieste HTTP nella nostra macchina guest non entriamo nei dettagli se no facciamo un video lungo un'ora comunque una volta fatto ciò controlliamo tutto di nuovo, anzi facciamo così prima facciamo ok, fate ok a tutto dopodiché spegnete la macchina questo per essere sicuri che refresh il suo stato così non abbiamo problemi dopo quindi spegniamo la macchina, la riaccendiamo, si va bene, fa il boot aspettiamo manca troppo subiamo la macchina, facciamo IPA controlliamo l'IP 10.0.2.8 e ricontrolliamo le preferenze network di virtualbox quindi doppio clic, port forwarding e vediamo 10.0.2.8 tutto sembra corretto quindi ora potete chiudere tutto potete aprire il vostro browser e scrivere http due punti barra barra mi raccomando non https se no non vi funziona non è la stessa cosa 127.0.0.1 che è l'indirizzo che avete dato su virtualbox ve lo faccio vedere nel caso ve lo faccio vedere così facciamo tutto fatto bene eccolo qua quindi questo è l'indirizzo che avete dato qua perso il browser perfetto dopodiché mettiamo la porta che abbiamo dato in questo caso 10.001 10.001 l'ultimo slash non è necessario io lo metto tanto per una volta fatto questo io mi sto facendo il segno della croce anche se non lo state vedendo dovrebbe essere tutto a posto si acciate in via ok ha funzionato ora chiudiamo queste cose qua questo non ci interessa più apriamo il nostro browser eccolo qua ha funzionato quindi ricapitolando http due punti barra barra 127.0.0.1 due punti porta l'ultimo slash non è necessario dovrebbe avervi connessi alla macchina dovreste vedere esattamente questa schermata qua questo ragazzi dovrebbe funzionare anche da windows a meno che non ci siano firewall particolari rating non attivate nel modo giusto non autorizzate bla 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 dovrebbe funzionare anche da windows se vedete questa schermata ragazzi è fatta ora potete fare tutti i vostri esercizi della macchina web for pen tester senza grossi problemi e se avete bisogno del terminale potete usare questo anche se ok non prende le audio di tastiera italiana quindi va impostato ok a me è nata via la voce perché tipo il quarto video di fila che sto facendo spero di esservi stato utile questo video provate a farlo più corto possibile perché so che quando qualcuno vede un video lungo 20 minuti non ci clicca sopra quindi niente nella speranza di essere riuscito ad aiutare qualcuno nell'intendo di installare questa fantastica macchina se avete qualche dubbio scrivetelo nei commenti proviamo ad avere una discussione magari per aiutare anche altri utenti ad installare fatemi sapere se ha funzionato anche su windows sono abbastanza curioso e niente per oggi è tutto noi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi